buongiorno oggi parleremo della politica di John Locke e qui alle mie spalle troviamo questa espressione libera perché in effetti John Locke oltre a essere appunto come abbiamo detto in un'altra lezione il padre dell'empirismo moderno sicuramente può essere considerato il padre dell'ideologia liberale per quanto riguarda la filosofia politica e tra l'altro abbiamo anche detto che questa sua ideale e questa sua filosofia politica appunto nasceva in stretto rapporto con quelle che erano le vicende politiche legate alla per così dire seconda rivoluzione in Inghilterra la risoluzione moderata per contraddistinguerla da quella che si compì invece con la decapitazione di Carlo I Stuart. Bene, da questo punto di vista noi per così dire possiamo cercare di costruire un parallelismo o quantomeno di confrontare la teoria politica di John Locke con quella di Thomas Holmes e l'invito infatti che qui viene fatto è proprio quello di cercare di vedere i tratti che accomunano e che dividono queste due prospettive che peraltro nascono entrambi da due personaggi che abbiamo detto hanno vissuto l'esperienza della rivoluzione inglese e però hanno dato un'interpretazione poi dei fenomeni sociopolitici in modo abbastanza differente seppur ovviamente con dei punti in comune che fanno sì che sia Holmes che Locke rientrino a pieno nella dottrina politica moderna. ancora poi più interessante sarà successivamente vedere queste due posizioni politiche in confronto con un terzo grande personaggio non solo anche in questo caso del pensiero politico europeo ma diciamo in generale del pensiero occidentale che sarà appunto Jean-Jacques russo il quale avrà ancora una posizione diremmo noi altra rispetto a quella di Holmes e a quella di Locke ma per il momento rimaniamo per così dire concentrati su questo tema del pensiero politico di John Locke che è già abbastanza benso per così dire di sollecitazioni e di curiosità. Bene, innanzitutto andiamo a vedere quali sono le idee di fondo e le opere che diciamo rappresentano il nucleo del pensiero di Locke. Allora, l'idea di fondo è chiaramente l'idea che sta alla base dello Stato liberale che fa sì che lo Stato sia in funzione, quindi sia uno strumento, nelle mani del singolo cittadino e quindi la funzione strumentale dello Stato in vista delle garanzie della libertà del cittadino. Quindi come vedete comprendiamo subito questa è la radice del liberalismo appunto il fatto che lo Stato non imponga al cittadino, non sia il cittadino diciamo a realizzare lo Stato ma in un certo senso sia lo Stato che diventa strumento di realizzazione del singolo cittadino. Beh, le opere più importanti dove appunto Locke traccia i lineamenti di questo liberalismo inglese e moderno sono i due trattati sul governo sul 1690, quindi vedete siamo proprio come dire nel momento della riuscita, se così si vuole, della rivoluzione, di quella rivoluzione moderata e modesta ma completamente riuscita. Per un'altra volta citare le parole di Russell che abbiamo usato per presentare questo personaggio all'inizio e quali due trattati propongono un'analisi del fondamento della società civile, cioè vanno a ricostruire com'è che si arriva alla costruzione dello Stato e quale caratteristiche questo Stato deve fare. Quindi vedete un'analisi simile a quella che aveva fatto Hobbes però appunto qui vedremo con esiti differenti. E poi insieme a questi due trattati un altro importantissimo saggio che vale la pena come dire di essere eletto anche per le sollicitazioni attuali che è in grado di appunto di far sorgere la mente delle persone che è la lettera sulla tolleranza pubblicata anche questa nel 1689 quindi come vedete siamo sempre nel periodo culminante della secondo round della rivoluzione della rivoluzione inglese nel quale tra l'altro viene affrontato un importante tema che è quello del rapporto tra il potere temporale e il potere spirituale o se si vuole tra Stato e Chiesa. Bene, iniziamo dal primo trattato dei due trattati di John Locke che è sostanzialmente una risposta a un'opera di un contemporaneo Robert Filmer il quale aveva sostenuto nella sua opera del 1680 patriarca ordinato power of king, in inglese un po' imperfetto, aveva sostenuto e difeso l'assolutismo monarchico e soprattutto il diritto divino dal quale discernerebbe, dal quale deriverebbe l'autorità del sovrano. E invece su questo punto Locke contesta queste argomentazioni e oppone proprio il principio secondo cui in realtà per natura tutti gli uomini sono liberi e uguali, quindi nessuno nasce investito del diritto di governare sugli altri uomini, quindi siamo per così dire in una condizione di uguaglianza al momento della nascita. qui abbiamo messo questa immagine che, come dire, rende abbastanza bene l'idea dell'uguaglianza di questi uomini tutti colorati e al contempo tutti uguali, essendo gli uomini tutti uguali per natura, liberi, indipendenti e nessuno può essere tolto da queste condizioni e assoggettato al potere politico di un altro senza il suo consenso. Quindi gli uomini sono effettivamente tutti uguali e a nessuno può essere imposto contro il suo consenso per così dire un qualche forma di potere. E questo appunto è uno stato di uguaglianza in cui potere e autorità sono reciproci perché nessuno ne ha più degli altri, questo ancora scrive sempre John Locke. E vediamo il secondo trattato. Bene, il secondo trattato spiega invece dettagliatamente come la società civile sia istituita da un patto consensuale tra gli uomini. Quindi anche Locke crede nel contratualismo, diremmo noi, nel contratualismo, cioè dell'idea che la politica nasca da un contratto, un libero contratto con cui tutti gli uomini escono dallo stato di natura e si impegnano a sottomettersi alle decisioni della maggioranza. In questo appunto vedete che c'è un'analogia con le tesi di Hobbes. Però questa analogia, per così dire, almeno per quanto riguarda questa cosa, finisce qui. Finisce qui perché già lo stato di natura per Locke è caratterizzato da una situazione ben diversa da quella enucleata, da la teoria di Hobbes. Per quanto riguarda lo stato di natura, Locke sostiene che questo non è né una sorta di paradiso perduto dal quale gli uomini non si sarebbero allontanati, quindi questa, vedremo, è una sorta di visione legata poi soprattutto successivamente al mito del buon selvaggio e quant'altro, però non è neanche uno stato di guerra perfetto, a come sosteneva Hobbes. Quindi è una situazione assolutamente, diremmo noi, intermedia. E su questo Locke, come dire, si cimenta proprio nella scrittura, nel secondo trattato, delle caratteristiche dello stato di natura e lo distingue proprio dallo stato di guerra. e fa notare che nulla c'è di sovrapponibile tra lo stato di natura e lo stato di guerra. Qui abbiamo messo un'immagine che, come dire, ci presenta, per esempio, una tribù allo stato, diremmo noi, sostanzialmente pre-civilizzato, allo stato di natura, questo è ovviamente un'attività attuale, quindi in realtà non rappresenta quello di cui poteva avere esperienza John Locke, che però appunto ci mostra come non si, come dire, si abbiano qui tutte le incombenze, le difficoltà di uno stato di natura, ma non c'è assolutamente una forma di guerra permanente, come aveva detto oggi. Cioè è uno stato, è una situazione sicuramente dove non si vive di agi, ma non è neanche una situazione dove appunto c'è una guerra di tutti contro tutti. E questo da che cosa è dato? Questo è dato dal fatto perché lo stato di natura già di per sé è governato dalla ragione. Com'è governato dalla ragione? Ma lo stato di natura è governato dalla ragione perché tutti gli uomini hanno la ragione e quindi tutti gli uomini muovono secondo ragione e secondo ragione sono governati. Dice, per quanto sia uno stato di libertà, questo non è uno stato di licenza, benché sia incondizionatamente libero in questo stato di disporre della sua persona e dei suoi beni, l'uomo non è libero di distruggere se stesso o altra creatura umana che gli appartenga, se non quando lo imponga a motivo più nobile della semplice sprovvivenza. Lo stato di natura è governato da una legge di natura che è per tutti i vincolati. È la ragione che poi quella legge stessa insegna a chiunque soltanto voglia interpellarla che essendo tutti gli uomini uguali e indipendenti, nessuno deve eledere gli altri nella vita, nella salute, nella libertà e negli averi. E quindi già abbiamo visto che questo stato di natura è di fatto caratterizzato da una serie di, diremmo noi, di diritti, di diritti che sono espressione proprio della ragione, cioè espressione della ragione appunto umana. E vediamo questi diritti che abbiamo già qui, come dire, accennato. Il primo diritto fondamentale è appunto il diritto alla salute, quindi alla vita. E qui abbiamo messo questa immagine per ricordare questo cuore che batte, che rappresenta proprio l'idea del diritto alla salute e alla vita. Il secondo diritto che abbiamo visto è legato evidentemente agli averi, cioè il diritto alla proprietà privata. E su questo poi, come dire, ci torneremo ancora in seguito perché effettivamente John Locke è proprio, diremmo noi, se vogliamo, il fondatore del diritto di proprietà privata, del diritto della proprietà privata. Perché addirittura John Locke, come dire, afferma essere un diritto di natura. Questo è molto interessante. Se visto, per esempio, il rapporto a John Locke e John Locke, invece lo richiede assolutamente un artificio dei più forti per opprimere i più deboli. E questo ovviamente poi apre una lunga tradizione di idee politiche contrattoste a proposito appunto della proprietà privata. Ed infine ovviamente il diritto alla libertà. Diritto alla libertà, che è estremamente importante per Locke, che abbiamo rappresentato, queste due mani, come dire, libere da impedimenti, come dire, dove i vincoli sono stati tagliati, spezzati, quindi la persona è libera, effettivamente si è liberata, questa idea della libertà degli individui. Ognuno di questi diritti, dice Locke, può estendersi fino a che non entra in conflitto con quelli degli altri individui. Quindi in sostanza l'uomo gode di questi diritti, fin tanto questi diritti appunto non vanno a ledere i medesimi diritti di un'altra persona. E questo appunto è uno degli aspetti importanti del pensiero di Locke, come si dice, no, sempre anche tra di noi, dov'è che finisce la mia libertà? La mia libertà finisce laddove inizia quella degli altri, cioè laddove, come dire, io con le mie azioni non ledo la libertà degli altri. Finché la mia azione non lede la libertà degli altri, quindi non mette a repentaglio la vita degli altri, la proprietà degli altri, bene, io solo devo poter essere libero di fare ciò che voglio. Questo è sostanzialmente il nocciolo poi del liberalismo di John Locke, cioè dell'ideale liberale di John Locke. E vediamo che anche dal punto di vista della proprietà, della proprietà privata, John Locke trova una giustificazione naturale al diritto di proprietà. Quindi, da un lato, i punti cardine del liberalismo sono proprio questi, la libertà dell'individuo, ovviamente del diritto alla vita, però il diritto alla vita, diciamo, è qualche cosa che comunque anche nella teoria di Hobbes è qualche cosa che viene rivendicato, anzi, è proprio per il primum vivere, è vero, dell'inde filosofale, vi ricorderete questa frase che abbiamo messo per far capire prima di tutto il primum vivere, e quindi questo, diciamo, lo troviamo anche presente nella filosofia di Hobbes. Bene, e qui però troviamo questi due elementi fondamentali che caratterizzano proprio il pensiero liberale, che è appunto il diritto alla libertà e il diritto alla proprietà. E vedete come Locke giustifica questa idea della proprietà privata. Ognuno ha diritto a quei beni che la natura ha provveduto in comune, nella misura in cui è capace di usarne. Quindi, ognuno ha diritto a quei beni che ha dato la natura a tutti, nel limite in cui è capace di usarne, e può possedere quanto è in grado di realizzare col suo lavoro. Quindi, l'idea sostanzialmente di Locke è questa, che le cose che io possiedo, quindi che io tengo il mio possesso, mi spettano perché io le ho create col mio lavoro. Tutto ciò che rientra nell'ambito della sua operosità e viene mediante di essa, rimosso dallo stato in cui la natura lo ha posto, è suo. Quindi, tutto ciò che io riesco, come dire, a trasformare col mio lavoro, e anche se era un bene, diciamo, naturale, beh, io acquisto diritto di proprietà su di esso. Facciamo un esempio. Un esempio semplice, non è che bisogna tirare fuori chissà quale esempio complesso. Io prendo del legname, del legname dalla foresta. È chiaro che il legname nella foresta è di tutti, è dato da natura a tutti, ma siccome io sono lì, lo lavoro, me ne occupo, mi prendo cura del bosco, e tutto il resto, beh, poi acquisisco diritto di proprietà su quel legname che ho diritto di vendere per il palegname, per costruire le cose, piuttosto che per il caminetto, insomma. Non so se così ci siamo spiegati. E questo, per esempio, vale anche per un campo. Beh, il campo, il campo è chiaro che è di tutti, ma nel momento in cui io me ne occupo, lo prendo, col mio lavoro, lo trasformo in un campo agricolo, e poi da esso produco delle samenti, beh, a questo punto io ho diritto di proprietà sulle samenti e su quel campo. Bene. E ancora prosegue, e prosegue Locke nella sua, nella sua, nella sua opera, e come gli uomini erano in grado di avere delle proprietà in propria eruzione al loro lavoro, così questa scoperta della moneta, ovvio loro l'occasione di mantenerli e riaccresce. E qui c'è la giustificazione anche dell'attività, vedremo noi, commerciale, e se si vuole, finanziaria. e ritroveremo l'importanza di questa cosa della finanza, ma con un altro autore, però molto legato, se si vuole, all'idea di libertà di John Locke, al liberalismo di John Locke, ma saremo già nell'illuminismo, e vedremo che non è un autore inglese, ma francese, benché estremamente innamorato dell'inghilterra. Ma su questo, come dire, lasciamo, facciamo un spoileraggio ulteriore, lasciamo un po' la curiosità, che poi appunto andremo a riprendere questo tema. Quindi anche la ricchezza generata con gli investimenti, con il commercio, e genera della proprietà privata per l'oc legittima. Qui abbiamo messo questa cosa, con un po' l'idea della banca in cui si investe, insomma, non funziona realmente proprio così, però abbiamo cercato di trovare un'immagine che, come dire, fissasse nella nostra mente questo, questo punto. Beh, lo stato di natura, quindi, com'è? Beh, lo stato di natura, di per sé, dice Locke, appunto, abbiamo detto, non è un paradiso, ma non è uno stato di guerra, è semplicemente insicuro. Perché è insicuro? È insicuro perché, anche se ci sono queste regole fondamentali, diritto alla vita, diritto alla proprietà, e chiaramente, diritto alla libertà, beh, chiaramente, non è detto che, tutti le persone, rispettano questi diritti, cioè, ci può essere qualcuno, che viola questi diritti naturali, e quindi, come dire, è una situazione abbastanza precaria. La proprietà privata, rischia di essere sempre spropiata con la porta, la vita e la libertà, sono minacciate continuamente, dall'eventuale aggressività altrui, e soprattutto, una cosa molto importante, e che qui dimostra proprio Locke, di essere, se così si vuole, all'avanguardia, proprio nell'idea del commercio, nell'idea di quello che sarà, lo sviluppo economico inglese, un aspetto, che è rimasto un po' secondario, in Hobbes, nell'analisi politica di Hobbes, forse anche poche Hobbes, è leggermente più giovane, di, scusate, è leggermente più vecchio, abbiate pazienza, Locke è leggermente più giovane, di Hobbes, e invece Hobbes è leggermente più vecchio, quindi, forse non ha visto ancora, quei processi di cambiamento, che invece Locke, intravede nella società, l'idea, cioè, che da solo, l'uomo, non riesce a soddisfare, compiutamente, i propri bisogni, cioè, un singolo nucleo, un familiare, prima abbiamo visto, quell'immagine, di quel nucleo di Indios, beh, da soli, sì, sicuramente, riescono a sopravvivere, però non è che hanno tutti gli agi che noi abbiamo, immaginiamo noi di non vivere nella società, cioè, voglio dire, immaginiamo noi di essere in un bosco, dove da soli, padre, madre, qualche altro affiliato alla famiglia, dobbiamo procacciarci il cibo, difenderci dalle interferie, beh, sarebbe un enorme fastidio, se oggi ci sono i programmi, no, sopravvivere, nudi e crudi, no, si usa vedere alla televisione, vediamo quanto questa cosa è estremamente complicata, estremamente precaria, invece nella società, è tutto più semplice, voglio dire, io faccio un lavoro, ho del denaro, ho fame, beh, semplicemente, non è che devo andare a procacciarmi il cibo nella foresta, e se non lo trovo non mangio, semplicemente vado al supermercato, lo trovo un sacco di roba da mangiare, pago e porto via quello che mi interessa, ma tutto questo regge, e regge soltanto se appunto c'è la società, e questo è il punto di svolta, che fa sì che l'uomo passi dallo stato di natura, allo stato civile, perché appunto, da solo non riesce a soddisfare completamente i propri bisogni, cioè produrci il cibo, costruirci alloggi, rendere più agevole la propria vita, e via così dicendo, mentre insieme agli altri, appunto, tutto questo diventa più facile, da questo punto di vista, l'unione fa la forza. Qui abbiamo messo un'immagine, appunto, che richiama immediatamente, l'idea che nello stato di natura, e qualsiasi proprietà rischia di essere espropriata. Va bene, qui abbiamo messo un'immagine, quello che porta via la roba di un altro dalla tasca. Nella società civile questo non dovrebbe succedere, quantomeno si cerca di difendersi da queste cose, perché questo è possibile? Perché ci si mette d'accordo, cioè appunto si fa un contratto, si fa un fatto, come aveva già detto Hobbes, però appunto qui un fatto che vedremo a dei limiti ben precisi. La società civile nasce perciò, ecco qui già un aspetto profondamente diverso da Hobbes, per difendere i diritti di natura dei suoi associati. Vi ricorderete invece che in Hobbes l'idea è quella di stravolgere se si vuole il diritto di tutti su tutto e darli a una sola persona. Qui invece lo Stato, la società civile, si costituisce proprio per difendere il diritto di natura, ma perché ovviamente Hobbes ha un'idea di diritto di natura che è diverso dal diritto di natura che ha John Locke. Quindi lo Stato deve essere in grado di dare a tutte le garanzie e la sicurezza, oltre che permettere la cooperazione tra i vari individui, facilitando appunto il soddisfacimento così dei propri bisogni. E qui abbiamo messo una tipica immagine, una tipica immagine dove si va a firmare dei contratti dove effettivamente si costruisce le norme di regola, le norme e le regole di convivenza civile e di una società, le ho preso con immagine di diplomatici del tempo. E qui appunto veniamo all'unico motivo per cui l'uomo si spoglia della sua libertà naturale. Il solo motivo in cui un uomo si spoglia della sua libertà naturale è assumere su di sé i vincoli della società civile. Consiste nell'accordarsi con gli altri uomini per associarsi e unirsi in una comunità al fine di vivere gli uni con gli altri in comodità, sicurezza e pace nel sicuro godimento però della propria proprietà e con una maggior protezione contro coloro che non vi appartengono. Quindi contro coloro che magari sono appartenenti a un altro Stato o un'altra civiltà e potrebbero aggredirci. Questo è l'unico motivo per cui uno può spogliarsi della sua libertà naturale. Quindi se io rinuncio alla mia libertà naturale da un mio Stato in natura è perché nello Stato devo trovare ancora più libertà diremmo noi o quantomeno devo trovare ancora più garanzia della libertà che ho perché se no non c'è nessuna convenienza potrei tranquillamente come dire difendermi da solo se devo essere per così dire oppresso come invece sembra essere nello Stato assoluto. E per questo Locke appunto precisa che nessuno può legittimamente detenere il potere per una presunta investitura divina questo lo avevamo già accennato o tantomeno per tradizione familiare per eredità o per meriti acquisiti e qui vedete che appunto c'è l'idea addirittura del principe elettivo questa cosa che come dire si intreccia un po' le vicende storiche del Ducati da Nover e della poi della regenza degli Orange il potere infatti è il frutto di un consenso tra tutti i cittadini che pongono in essere legittimamente consapevolmente un contratto che vincola tutti e ciascuno rispetto della legge e della proprietà prodotta dal lavoro nonché la libertà individuale dunque e qui si arriva ad un altro punto fondamentale nessun governante governa senza questa autorizzazione dal basso creata per comune consenso quindi non è possibile che qualche d'uno abbia un potere senza che questo potere gli derivi direttamente dal consenso creato dal basso qui abbiamo messo l'immagine appunto della camera inglese dove appunto si vede il parlamento inglese che si vede appunto l'è alzata di mano ora qui l'immagine un po' sgranata non si vede che appunto danno il consenso lo stesso magistrato anche questo un altro aspetto di diversità tra Hobbes e Locke dovrà riconoscere e obbedire senza eccezione alla legge vi ricorderete che invece il sovrano di Hobbes era legibus assoluto e invece qui in questo caso siamo proprio davanti a un magistrato un potere politico che deve egli stesso sottostare alla legge i suoi atti non potranno né andare contro la legge né oltrepassare i confini che sono stati stabiliti quindi lui è soggetto continuamente al controllo e a una possibile rimozione se questo non compie quello che gli è stato affidato come modalità di governo viola le leggi che i cittadini hanno per così dire messo nero su bianco nel loro contratto e questo deve essere cacciato cosa che di ricordare no non era possibile cioè se il sovrano improvvisamente impazziva e spaceva i fatti suoi è tenuto di tenere perché se lo metteva in discussione riprendeva la bagarre cioè la guerra di tutti contro tutti e invece Locke sostiene che assolutamente se uno non fa quello che deve fare deve essere rimosso che è un po' quello che per così dire è successo se si vuole a Carlo II cioè c'era molto e non andava bene non ci sarà e qui la situazione doveva doveva essere cambiata perché stava come dire tornando lo spettro dell'assolutismo e qui ancora leggiamo né un potere assoluto e arbitrario né un governo senza leggi fisiche e stabilite possono essere compatibili con i fini della società e del governo perché gli uomini non rinuncerebbero la loro libertà dello stato di natura né si sottometterebbero al governo se non per conservare la loro vita con cui quasi è possibile nello stato di natura la loro libertà e le loro fortune e assicurarsi la pace e la tranquillità con norme dichiarate che regolano il diritto alla proprietà cioè non è possibile pensare che un potere assoluto possa preservare i diritti individuali non è lecito pensare che essi avendo il potere di farlo intendessero conferire a uno o più potere assoluto e arbitrario sulla loro persona e sui loro beni e poiché nelle mani dei magistrati una forza alta esercitare arbitrariamente su di loro una volontà illimitata quindi non è possibile pensare che quando i cittadini sono messi in segno l'abbiano fatto appunto per dare a qualcuno un altro un potere assoluto e perciò scrive scrive sempre Locke e perciò di qualsiasi forma di stato si tratti il potere deve governare per mezzo di leggi dichiarate e riconosciute e non per mezzo di prescrizioni estemporane deliberatamente imprecise quindi bisogna sapere come dire bisogna conoscere non si può delegare in bianco al governante come avveniva nello stato di Hoz ma ci vuole una costituzione ben precisa che il governante deve rispettare questo può fare la tradizione inglese ci pensate sono stati i primi che si vuole con la famosa carta del migliaia 2 appunto a essere per così dire portatori dell'idea di monarchia costituzionale magna carta libertà ora scusate mi è bene contro il potere politico che c'è dei limiti per i quali è stato istituito il popolo ha il diritto di ricorrere alla resistenza e alla forza in questo caso infatti non si tratta di sovvertire l'ordine costituito ma anzi di ristabilire proprio la legge da parte dei governanti proprio come dire la diversità con l'assolutismo e col peniziero di Hoz e ribellarsi all'assolutismo al governante che fa i fatti suoi equivale a riaffermare il bene comune questo è il punto là infatti dove scrive Locke finisce la legge comincia la tirante se la legge viene trasgredita danno di armi e chiunque nell'esercizio dell'autorità ceda nel potere conferito dalla legge fa uso della forza che ha il proprio comando per ordire contro i sudditi ciò che la legge non permette cessa con ciò stesso di essere magistrato cioè chi usa il potere in modo improprio contro i suoi stessi cittadini cessa in quel momento di essere il governante è come se il fatto venisse immediatamente receso e qui i cittadini hanno diritto a prendere un altro governante e qui abbiamo messo un'immagine proprio della rivoluzione inglese che appunto rappresenta l'idea della necessità di cambiare le cose quando questi governanti non rispettano chi vanno bene e qui vediamo il nucleo abbiamo detto l'importanza del confronto con Hobbes e quindi come dire non possiamo far a meno di tornare ancora una volta su questo confronto vedete anche se Locke e Hobbes condividono l'impostazione contratualistica in realtà le loro teorie politiche appunto hanno un esito ben diverso vediamo di riassumere questo esito mentre Hobbes sostiene che il sovrano e il sindacabile gli interessi dello Stato vengono prima di quelli del singolo bene per Locke lo Stato esiste proprio per garantire gli interessi del singolo quindi esattamente l'opposto e in particolare Locke sostiene che i diritti dell'individuo sono inviolabili e che esso non sia sottoposto a nessun limite se non a quelli necessari per garantire la pacifica convivenza ciò significa che in nessun modo lo Stato può interferire nella vita privata della persona e questo vale soprattutto ovviamente per quanto riguarda la libertà di coscienza di pensiero di stile di vita di religione però non ha senso che uno Stato entri in queste questioni individuali diremmo noi queste questioni personali intanto perché non riuscirebbe mai dice Locke in un passo estremamente esplicativo a come dire far valere il potere sulla libertà di coscienza o di pensiero dell'individuo ma perché non è possibile ma perché non posso mica impedire a una persona di pensare quello che vuole pensare non posso mica impedirgli di credere in quello in cui vuole credere come è possibile questa cosa e allora questo non è un vero e proprio potere quindi non ha neanche senso parlare di questa cosa scrive John Locke e John Locke tratta proprio questi temi dicevamo all'inizio della nostra spiegazione nella lettera sulla tolleranza del 1689 dove in modo particolare si affronta uno dei temi diremmo noi un po' se si vuole scottanti relativamente alla questione ovvero appunto quello del rapporto tra Stato e Chiesa ovvero tra fede più che Chiesa in quanto diremmo noi in quanto istituzione qui si parla appunto di vera Chiesa cioè l'idea della comunità dei credenti dei fedeli anzi vedremo che Locke è contrario all'idea dell'istituzione ecclesiastica e Locke sostiene innanzitutto che lo Stato non deve avere alcun potere sulla religione che è un fatto strettamente privato cioè rientra tra quelle cose che abbiamo detto prima la libertà di pensiero la libertà di coscienza mi sembra scrive appunto John Locke che lo Stato sia una società di uomini costituita per conservare e promuovere soltanto i beni civili chiamo beni civili la vita la libertà l'integrità del corpo la sua immunità dal dolore i possessi delle cose esterne come la terra il denaro e le suppelletti e queste sono le cose di cui si deve occupare lo Stato non della fede non di quelle cose che appunto riguardano l'intimo della persona a parere di Locke quindi è di fondamentale importanza per il buon andamento dello Stato una netta separazione tra politica e religione ancora qui dice a proposito della lettera sulla tolleranza qui si può leggere direttamente dal sito e poca poca roba il potere civile non deve prescrivere articoli di fede documento o mondi di culto divino con la legge civile quindi non di questo non si deve occupare il potere civile ovviamente questo viene ribadito più volte e viene anche considerato per così dire un aspetto compatibile con il messaggio cristiano cioè che da un lato ci sia il potere civile e dall'altro per così dire ci sia il potere o meglio ci sia la fede religiosa scusate non il potere ma ci sia la fede religiosa e questo dice è qualche cosa che ha a che fare proprio col messaggio cristiano se ci si pensa bene è proprio quello che c'è scritto nella Bibbia quello che viene detto appunto nel passo di Matteo dove rendete dunque a Cesare inteso appunto come lo Stato quel che è di Cesare e questo è un aspetto importante perché vede appunto la distinzione tra ciò che è qui scusate a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio e abbiate pazienza la vignetta un po' scherzosa ma non vuole essere certamente offensiva anzi vuole essere chiarificativa del fatto che stiamo parlando di due cose diverse da un lato la fede che è un fatto individuale privato dall'altro c'è lo Stato e lo Stato ha altre priorità altre prerogative che non riguardano appunto le credenze dell'individuo e quindi appunto questa importante distinzione ad ogni modo dice Locke per quanto non possono esserci intromissioni da parte della politica nell'aspetto legato alla fede e alle religioni beh non proprio tutto ciò che è religioso va bene in che senso in che senso non tutte le religioni vanno bene tutti i credi religiosi vanno bene beh perché ci sono delle religioni dice Locke delle fede religiose che entrano in contrasto con le leggi della società in che senso beh per esempio dice Locke se io credo in una religione che ha a capo il capo di un stato di un altro stato io rispondo non più alle leggi del mio stato ma alle leggi di un capo di stato di un altro stato chi sta parlando di chi sta parlando Giolla beh oggi può sembrare strano perché noi non ci pensiamo mai che la città del Vaticano è uno stato perché ormai diremmo noi più che altro più che uno stato è un'area simbolica e non pensiamo mai che il papa è in realtà diremmo noi il papa re cioè appunto un regnante ma all'epoca di Locke questa era una realtà estremamente significativa cioè lo stato pontificio intanto non era neanche tanto piccolo aveva un'area abbastanza abbastanza vasta certo molto più piccola rispetto ai grandi stati in azione dell'epoca però aveva la sua dignità la sua dignità statale e soprattutto appunto si tratta appunto di un re a tutti gli effetti che dava degli ordini ai suoi sudditi e questi ordini potevano essere incontrati non a caso vi ricorderete che gli inglesi soprattutto Enrico VIII aveva pensato bene di svincolare la sua chiesa dalla chiesa di Roma che non voleva assolutamente sottostare ai dittanti di un altro quindi qui Locke più o meno sta parlando in buona sostanza dei cattolici cioè l'idea che non è possibile ecco abbiamo messo l'immagine ora questa non è la presentazione del pub però è un'immagine estremamente famosa vecchio Manfredi in una scena di Il nome del Papa Re che è un famoso film ne sono stati fatti almeno un paio di versioni anche con proietti Il nome del Papa Re che appunto ci fa proprio vedere che all'epoca il Papa era un re e quindi il cattolicesimo ebbè secondo Locke il cristianesimo sì va bene ma il cristianesimo in senso lato non il cristianesimo assoggettato al Papa Re di Roma che appunto all'epoca non è come oggi che è una figura diciamolo praticamente esclusivamente spirituale all'epoca era un personaggio politico che emetteva delle leggi politiche che pretendeva diciamo di far valere la propria sovranità sui suoi subiti non solo quelli dello Stato Conteficio ma anche tutti i suoi studi dispersi in tutti gli altri stati e il potere e stiamo parlando di potere appunto civile e quindi Locke dice cristiani sì ma cattolici no perché cattolici vuol dire stare sotto le leggi di un altro governo di un altro re che appunto si fonda su altri principi che magari non sono quelli che i nostri cittadini hanno scelto e poi tira una stoccata anche all'ateismo ma questo dipende più che altro dalla cultura dell'epoca di questo come dire c'è modo poi di approfondire a proposito dell'educazione del genere per me in inglese non faremo questo approfondimento però per chi vuole perché l'ateo è giudicato in modo sospettoso in modo duro da parte di Locke ma perché secondo appunto Locke i suoi contemporanei la religione che cosa fa? beh forma le norme morali della persona e di conseguenza un fredifrago cioè un uomo senza fede un uomo che non crede in Dio beh è considerata una persona diremo noi immorale o quantomeno che può mettere a repentaglio la stabilità dello Stato che non ha sani principi in cui credere quindi è una persona in fida di cui non ti puoi fidare che non sai come la pensa che non sai fin dove si può spingere e quindi tutto sommato è bene che ognuno abbia pure la propria religione ognuno professi pure liberamente il proprio credo però se ha un credo è molto meglio che non se non lo ha e tra i credi che ha è bene non avere o meglio non avvicinarsi a quelli che prevedono di obbedire il re a un governo di un altro Stato come il caso appunto del cattolicesimo del papare dell'epoca in cui la Puc scrive bene speriamo di vedere come dire interessato in questa lezione rimasti sugli aspetti fondamentali e appunto vi invitiamo poi a confrontare questo con Hobbes che appunto precede il pensiero di Locke ma soprattutto poi di mettere questi pensieri in confronto con quelle che sono le idee politiche di Jean-Jacques grazie grazie e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti